Personale della Polizia di Stato, della Questura di Roma e finanzieri del Comando Provinciale della Capitale hanno intercettato un carico di 113 kg di marijuana a bordo di un auto articolato condotto da un cittadino greco appena sbarcato presso il porto di Civitavecchia proveniente da Barcellona. Le fiamme gialle del locale gruppo ed i poliziotti della squadra di Polizia Giudiziaria e della Polizia di Frontiera di Civitavecchia durante i controlli di routine nel corso delle operazioni di sbarco si sono insospettiti quando l'autotrasportatore ha mostrato segni di nervosismo alle prime domande decidendo di procedere ad un'ispezione più accurata. Supportati da Curdo, il cane è in dotazione ad una delle unità cinofine antidroga a distanza presso lo scalo portuale che ha subito manifestato il suo interesse, agenti e militari hanno ritrovato nascoste tra carrozzine per disabili, passeggini ed errate alimentari 11 scatole di cartone contenenti buste del peso di un chilogrammo ciascuna avvolte nel nylon per eludere i controlli. La partita di droga avrebbe fruttato una volta smerciata proventi per oltre un milione di euro. Il Corriere è stato arrestato per l'ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti ed associato alla casa circondariale.